Tibor Ossar, schiacciatore della Gas Tail Blue Energy Volley Piacenza, ha la sua seconda stagione in Italia e prima a Piacenza. Quali sono le prime impressioni? Le prime impressioni? Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando molto. Eravamo un gruppo un po' più ridotto, 9-10 giocatori all'inizio, quindi facevamo più di tecnica individuale e adesso che arriviamo la quinta settimana stiamo iniziando a fare un po' più di gioco con gli altri giocatori che sono arrivati dagli europei. Nel roster ritrovi vecchie conoscenze, tra cui Brissard e Pujol, con quei giocati nazionali e tanti volti nuovi. Che squadra ti aspetti? State iniziando a conoscervi? Sì, è una squadra nuova, ci sono tanti nuovi giocatori che sono qui adesso in Piacenza. Per me è vero che ho giocato tanto con Pier nella nazionale prima e poi con Antoine anche con la nazionale, quindi le conosco ma dobbiamo ritrovare anche un po' la relazione quando fa la palleggia. E poi sì, come ho detto, è una squadra nuova, quindi si deve trovare ritmo sul campo, soprattutto quando facciamo sei contro sei, di trovare un po' il ritmo per sentirsi in fiducia sul campo, velocemente. A livello personale ti sei prefissato qualche obiettivo per questa stagione? A livello individuale sì, per me sono sempre le stesse di dare il massimo che posso sia all'allenamento e soprattutto in partite e di provare di aiutare la squadra con il ruolo che avrò nella squadra, che è il massimo che posso fare sul campo, fuori campo per migliorare la squadra. E per chiudere facciamo un saluto ai lupi bianco-rossi aspettando il palazzetto? Ciao a tutti, ciao a tutti i lupi bianco-rossi, vi saluto e spero che ci vediamo presto alla banca per le partite. Ciao a tutti!